allora questo è un carlo atti prima generazione prima generazione il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti questo è il primo generazione adesso cambiamo e andiamo a mettere latti seconda generazione stessa ancia e una rigotti 3 ecco seconda generazione got it grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ecco questo è il secondo generazione grazie a tutti